Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video voglio mostrarvi gli acquisti e i regali che ho ricevuto a gennaio. A gennaio c'è stato il mio compleanno, quindi non ho solamente fatto degli acquisti, ma appunto ho ricevuto anche dei libri regalo. Allora, parto da alcuni libri che mi sono stati omaggiati da degli autori. Allora, il primo libro che vi mostro è Whisper di Thea Uzai, è il terzo volume della saga. Vi ho parlato dei primi due volume in un vecchio wrap-up, mentre nel wrap-up di gennaio vi ho parlato del prequel di questa saga. L'ho terminato di leggere proprio adesso, qualche minuto fa, ed è devo dire che questo terzo libro forse mi è piaciuto più degli altri. Nonostante questa, comunque sia una saga che mi sta piacendo, perché ancora non l'ho finita, questo forse è il mio preferito. Come sempre ci sono un sacco di colpi di scena e ve lo straconsiglio se amate i vampiri, se amate delle leggende. È molto carino, un paranormal romance che si legge molto molto velocemente. Io ringrazio l'autrice per avermi omaggiato anche di questa coppia. Altro libro che mi è stato omaggiato dall'autrice è L'urlo della sirena, di Maria Enea. Questo libro io l'avevo letto in digitale per una collaborazione con l'autrice e mi era piaciuto moltissimo, sia a me che a mia madre e a mia sorella, e quindi volevo acquistare la coppia in cartaceo. Ma poi l'autrice, gentilmente, mi ha omaggiato anche della coppia cartacea. E' un libro che a me è piaciuto tantissimo, proprio è stato uno dei libri, per quanto mi riguarda, più belli, non solo del 2022, ma in generale tra quelli che ho letto. Qui si parla di guerra, la protagonista della storia è una ragazzina affetta da poliomelite che abita a Palermo. È una storia di cui vi ho già parlato, non mi dilungo molto perché vorrei poi fare un video apposta su questo libro e su altri. Comunque è un libro che a me è piaciuto tantissimo e che assolutamente consiglio, è una lettura che secondo me può piacere a chiunque. Veramente molto molto bello. Poi avevo acquistato da Alexander Ackerman una box, una box del suo libro e mi sono fatta mettere all'interno anche altre cose, insomma. Ma in più è stato il mio compleanno, quindi mi ha aggiunto un regalo e io ringrazio tantissimo Alexander Ackerman. Le box dei suoi libri sono acquistabili, io vi lascio il link di Instagram dell'autore delle Lune di Arcadia, perché queste box possono essere acquistate ma solamente con un preordine, quindi dovete contattare l'autore o appunto le Lune di Arcadia per mettervi d'accordo su queste box, altrimenti i libri sono acquistabili su Amazon. E io appunto avevo acquistato il secondo e il terzo libro della sua saga e un altro che adesso vi mostro, ma gentilmente mi ha omaggiato della copia del Giuramento dell'Imperatore, che io ho nella vecchia versione, che poi in realtà è uguale a questa, cambia solamente la copertina. Quindi mi ha omaggiato di questo libro con la sua nuova copertina e io ringrazio infinitamente perché questa saga, ve l'ho detto anche nell'ultimo video, a me è piaciuta e sta piacendo tantissimo e sono contenta di avere il libro anche in questa versione e come vi dicevo ho acquistato anche il secondo e il terzo libro della saga. Entrambi letti, entrambi amati e continuo a ribadire che è un autore che a me piace moltissimo e tra l'altro tutti e tre insieme secondo me stanno molto bene, sono veramente molto belli da vedere accanto. E poi avevo acquistato anche questo qua che è Anatemia 17 ed è una raccolta di racconti horror scritto da Alexander Ackerman e anche da Rosa Davis. Ne ho sentito parlare molto bene, io difficilmente mi spavento e non sempre apprezzo i racconti. Quindi ho voluto prendere questo e provare anche a leggere questo libro e vedere come se la cava uno dei miei autori preferiti anche con i racconti. Comunque anche Rosa Davis è un'attrice che adoro. E niente, vi farò sapere una volta letto. Penso di iniziarlo a leggere adesso e leggere tipo un racconto a sera. Vediamo poi come andrà la lettura. Altro a questo che ho fatto sono stati due libri di Elisa Cavalli. Il primo è Lunaris, la pietra della notte, è il primo libro di una saga. Avevo letto questo libro nella vecchia versione. La nuova versione è diversa non solamente per la grafica ma anche proprio per i contenuti ed è per questo che ho voluto acquistarlo e voglio leggere questa nuova versione che è cambiata in alcuni capitoli e che è anche più bella esteticamente. Quindi ho voluto prendere lui e poi ho voluto acquistare anche il secondo di Midnight Roses che è Le spine della regina, questo letto e amato, anche questo bellissimo graficamente. Devo dire che Elisa Cavalli, Alexander Ackerman, Rosa Davis, le ragazze di Le lunedì Arcadia stanno facendo un ottimo lavoro per quanto riguarda l'editing, la pubblicazione dei libri perché non solo questi sono stati pubblicati da loro ma anche questi qua. Quindi sono dei libri molto belli sia esteticamente ma anche nei contenuti. Passando agli ultimi tre acquisti, ho acquistato di Azzurra Pasquali Wild Hunt, Cacciatori di Potere. Ero molto attratta dai suoi libri, ne ho adocchiato un altro, intanto ho preso lui, ne ho sentito parlare bene anche di questo, dovrebbe essere un autoconclusivo se non sbaglio. Comunque vi farò sapere appena possibile, questo ancora non l'ho letto, come non ho letto i prossimi libri. Allora ho acquistato El Bent che sarebbe il secondo libro dopo appunto La Nonna Casa, scritto dalla Bardugo. Abbiamo però solo un problema, cioè io ho un problema. La Nonna Casa che avevo letto e che mi era piaciuto moltissimo però avevo letto molto tempo fa, io non ricordo niente, ricordo solamente un dettaglio del finale, però non mi ricordo più i nomi, non ricordo più cosa succede e quindi per leggere questo dovrei rileggere La Nonna Casa, ma assolutamente non ho voglia, quindi se qualcuno ha letto La Nonna Casa di recente, ha la mente fresca, vi prego scrivetemi e raccontatemi le cose perché io non me lo ricordo assolutamente più. Poi ho preso in edicola, nell'edizione della collana Storie meravigliose, ho preso Cenerentola e altre storie. Questi libri, come sempre, ve lo dico sempre, sono veramente molto belli. Qua abbiamo anche Ansel e Gretel, abbiamo Il lupo e i sette capretti, comunque tanti sono conosciuti, il premotino, insomma abbiamo varie storie molto famose e quindi ho voluto prenderlo. E poi passiamo ai regali di compleanno. Una mia amichetta mi ha regalato questo, che volevo da un po', che è l'Odissea raccontata da Penelope, Circe, Calipso e le altre, di Marilu Olivia. Lei mi aveva regalato anche l'altro libro, L'Eneide di Didone, e questo è appunto, questo sarebbe in realtà mi sembra il primo pubblicato dall'autrice, comunque credo che partirò da lui a leggerlo. Ne ho sentito parlare sia bene che male di questo libro, però ero molto attirata dalla trama, dalla storia, e credo possa essere una storia molto valida. Altri regali di Natale, di compleanno, sono stati La reincarnazione delle sorelle Clun, di Malio Castagna. Questo è un bel mattone, edito Mondadori per la collana Oscar Fabula, è un dark thriller barra horror. Ne ho sentito parlare molto bene, la trama mi ispirava tantissimo, e quindi l'avevo messo nella lista dei miei desideri, che lascio giù nell'info box, e mi è stato regalato per il mio compleanno, prendendo appunto spunto da quella lista. Altro libro che volevo da tanto è L'Oceano, in fondo al sentiero, di Neil Gaiman. Io di questo autore ho letto molti libri, non tutti, però la maggior parte. Questo mi mancava, non sapevo, non avevo letto neanche la trama di questo libro, però quando la Oscar, la Mondadori, aveva fatto uscire questo libro in questa edizione, l'avevo occhiato, e anche lui era stato inserito nella mia lista dei desideri, una copertina molto carina. Speriamo che sia bello anche il libro, è scritto un po' piccolo, però la storia appunto mi attirava molto. L'ultimo libro che vi mostro in questo video è Il segreto del voltone, il commissario botteghi e una vecchia storia livornese. Questo qua è un libro che non avrei mai comprato, mi è stato regalato per il mio compleanno, e la trama mi ha incuriosito tantissimo, non vedo l'ora di leggerlo. Si tratta di una serie di libri dove il protagonista è sempre questo commissario botteghi che indaga a Livorno, che sarebbe la mia città, e in ogni volume c'è un'indagine che segue, che credo risolva, e quindi ogni libro è autoconclusivo, ma sono tutti legati da un filone, che penso sia questo commissario, che è presente in tutti i libri. E niente, mi ispira molto, più che altro mi ispira molto leggere una storia che è ambientata nella mia città, un giallo ambientato nella mia città, dove ci sono anche varie frasi in dialetto, con le varie note dove ti spiega appunto il significato di quella frase, e niente, mi sembra carino, e ne ho, sono andata poi a leggere qualche recensione, e ho letto delle recensioni molto positive, e quindi sono molto, molto curiosa di leggerlo. Bene, quindi questi sono stati i libri che ho acquistato, che ho ricevuto nel mese di gennaio. Fatemi sapere se avete letto qualcuno di questi libri, o se avete letto e ricordato la trama della Nona Casa. Se vi va, vi invito a iscrivervi al mio canale, di commentare, lasciare un like, perché in questo modo mi aiutate a crescere e mi supportate. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Ciao ciao!